Nel mondo frenetico della finanza spesso si pensa che gli investitori agiscano in modo razionale quando prendono le loro decisioni. Tuttavia la realtà è molto più complessa. La disciplina che studia come gli aspetti psicologici ed emotivi influenzino le decisioni degli investitori è la finanza comportamentale. Questa evidenzia come comportamenti irrazionali degli investitori si possano tradurre in bias, ossia atteggiamenti istintivi o scorciatoie di pensiero che li inducono in errore. Tra le principali categorie di bias troviamo i bias cognitivi, i bias emotivi e i bias positivi. I bias cognitivi sono distorsioni del pensiero nella mente dell'investitore che si verificano quando esso prende le sue decisioni finanziarie basandosi su considerazioni soggettive piuttosto che sull'analisi di fatti oggettivi. I bias emotivi si verificano invece quando le decisioni dell'investitore sono prese sulla base di reazioni emotive piuttosto che sull'analisi di processi razionali. I bias positivi si manifestano invece quando gli investitori sovrastimano il potenziale di rendimento di un determinato asset sottostimando il rischio connesso all'investimento. La domanda che sorge spontanea è come posso evitare questi bias e prendere decisioni razionali? Beh innanzitutto la consapevolezza. Essere a conoscenza di questi bias è sicuramente il primo passo per evitarli. Gli investitori devono essere a conoscenza delle proprie tendenze cognitive ed emotive e cercare di mitigarle durante il processo decisionale. La diversificazione ci aiuta a ridurre il rischio specifico di un determinato asset e il suo eventuale impatto negativo sull'intero portafoglio. Un altro fattore che ci aiuta ad evitare il bias è sicuramente la prospettiva del lungo termine. Ragionare nel lungo termine ci permette infatti di evitare di prendere decisioni impulsive dettate dal momento o da una circostanza particolare del mercato. Per qualsiasi dubbio o informazione scrivi nei commenti o contattaci. Iscriviti al canale per non perderti il prossimo video dove approfondiremo nel dettaglio i bias cognitivi.